ciao raga questo è un piattello questo sarebbe di gilera trend comunque anche sì invece questo scalino qui ce l'ha intero comunque questo deve andare sui ciao e ora si modifica occhiali è un piattello a presto a presto ora non ci resta altro che fischia bruscia cazzo bruscia 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 ora lo devo andare a provare poi dopo si leva le impurità e si riverniscia bronzo il colore uguale a cerchi se ora stacco però la gopro che c'è la batteria scarica non siede più nulla comunque raga è semplice il discorso prendete una smerigliatrice angolare se non ce l'avete dato anche una da hobbistica osta 30 euro quello professionale un po di più e andate a eliminare lo scalino poi provate e vedrete che questo qui non picchia più questa parte qui non picchia più sulla forcella di ciao d'accordo e poi un'altra cosa questo piattello è dedicato ai goods e alla sua ragazza che sono in ferie a ridere a fischiare a fumare e chi sei brio ciao raga ciao